sta facendo molto discutere in questo periodo la decisione del comune di milano che da ottobre 2024 vieterà la circolazione in città ai motocicli quattro tempi euro 0 e euro 1 a battersi contro questa imposizione scende in campo lori 666 biker e scrittore milanese siamo partiti con questa petizione per vedere cosa ne pensava la gente e cercare di far cambiare questa legge abbiamo raccolto 12.000 firme in poco tempo chiunque si muova su motocicli a prescindere dal tipo di mezzo conosce i vantaggi che questa scelta comporta una moto impiegandoci un quarto del tempo di una macchina sicuramente inquina meno di un'automobile di un qualsiasi altro mezzo che gira per milano noi intendiamo andare avanti fino alla data della scadenza abbiamo un anno di tempo faremo diverse manifestazioni domenica questa saremo a rombo di tuono a presentare le nostre motivazioni e speriamo che la gente sia dalla nostra parte invito tutti i motociclisti a venire con noi alla manifestazione ci incontreremo alle 15 e 30 all'europark dell'idroscalo per poi andare sotto la regione lombardia dove ci terranno un posto per poter parcheggiare le moto anche noi di due cilindri magazine sposiamo la causa invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione contro questo divieto ciao 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 ciao